eh mamma di sardinato un sacco di lavoro a Panamore ora concludere che un apolo senza la vizia è meglio ti dicevo la verità veramente non ci stai pensando proprio eh, io te l'hai il tuo pensiero hai pensato a 6 gol a Genova 3 gol a Valer ma nessuno ha un problema in la vizia gioco, che bello è nessun caffè a prendere pochi soli e a fumare una sigaretta quando giochiamo senza la vizia le difese avversari non mettono in campo la città ma tu che non mi dici proprio e ti dici che sto qui a prendere un po' di grado ma mi pare che tu stai più fuori di me immaginare l'apolo senza la vizia è come immaginare la commedia sex all'italiano senza il malo vitale tu hai messo a prendere il medicino stamattina o hai trovato la farmacia giusta, eh? un attaccante non si giudica solamente per la sua vita realizzativa ci sono un sacco di altre caratteristiche di cui bisogna tenere le conti oh maronna mia, aiutami tu, oggi non ti recupero manca la guardia di finanza pure cavallo, adesso si sente tutto il ricollo senza il pocio che crea gli spazi giu, ma ora fornisci questa tarantella ma stai facendo nervosito, stai sciamano e si tira tanta voglia per l'arrona ma perchè non vai al bar? non posso sentire più al bar? e come c'è la torta a questa gente? che è rimasto solo uno strunzo a sentire il sogno si ma questa storia prima o poi ha da fornire e non la faccio più a così ma tu fai davanti di mezzo che fai davanti di mezzo giu, hai socio solo che modo mi riesce eh? sono chiuso al tuo patologo sono chiuso al tuo cinecologo ma quando fai al tuo psicologo? quando? aspetta, aspetta, aspetta sei sani che devo giocare con me? no perchè io non bevo la varicina e mi tieni con la coscienza musica musica musica